Siamo nel centro di Taranto con Tiziano Ricci, presidente del settore alimentari di Casa Artigiani Taranto. Devo dire Ricci che quando lei interviene sui media, sulla stampa, su Facebook, devo dire che comunque fa opinione. Lei ha considerato il momento difficile che vive Taranto e lei ha sottolineato quanto segue. È assurdo che il sabato sera i negozi siano chiusi, almeno è grave che ciò accada soprattutto nelle ore serali perché in questo modo si svuota ulteriormente la città e le attività commerciali ovviamente hanno una pesante ricaduta negativa. Ecco vogliamo approfondire perché più di qualcuno ha detto va bene ma il sabato sera che cosa dobbiamo fare? I negoziati non dovrebbero pure riposarsi? Qualcuno ha detto io il sabato sera mi devo bere la birra fredda. Chiariamo perché ti posso fare io una domanda a te? Ebbè invertiamo i ruoli Invertiamo i ruoli ma tu hai mai visto una città che sia una città perché Taranto non è un paesino di 3.000 abitanti è una città. Hai mai visto una città con il sabato i negozi chiusi? È certamente un fatto grave che la città muoia il sabato sera. Cerchiamo di però lei come strutturerebbe la cosa? Innanzitutto io la strutturerei in modo diverso del tipo che magari si moderni ma forse modernizzare un po' anche gli orari del tipo è inutile aprire le 5 il pomeriggio. E c'è il sole? Il sole stanno 50 gradi non esce nessuno, si fa un orario magari un po' più comodo alle 7 alle 22 in modo tale da permettere alla gente di avere degli orari diversi rispetto ai centri commerciali, degli orari che si avvicinano quasi a quelli che fanno nei paesi limitrofi turistici che stanno aperti tutti i giorni anche la domenica e stanno aperti fino a mezzanotte. Però capisco che magari Taranto ancora non è una città vera e proprio turistica, ha soltanto le potenzialità, non è ancora una città turistica, quindi capisco che magari la domenica ancora non è condivisa da molti, però il sabato io credo che sia inaccettabile vedere i negozi chiusi a Taranto, è inaccettabile, è sconcertante. Ricci lei ha detto che è una città che ha le potenzialità turistiche che però deve essere sollecitata, spinta, educata a crescere, come smuovere i Tarantini? Cercare di destarli da un certo torpore? Ma guarda Luigi, io l'ho detto forse, non voglio esagerare, ma decine di volte, se non centinaia. Si potrebbero creare delle sinergie fra il settore alimentare, che è il settore che sta andando per la maggiore ormai in Italia e nel mondo, e con altri settori che magari sono in forte crisi come l'abbigliamento, il fashion, si potrebbero creare delle forti sinergie creando delle promozioni che incentivano il cliente in quei giorni mirati, in quei giorni precisi a venire a fare shopping perché magari poi si ha lo sconto da un determinato locale, da una determinata gelateria, da un determinato ristorante, quindi anche un incentivo, logicamente un cambio di orari sicuramente migliorerebbe anche alcune problematiche che ci sono. È un parere personale, molti condividono, molti non condividono, però io a volte sono amato proprio perché dico... Lei espone sempre quello che pensa, poi ovviamente uno può condividere, però per evitare che a Taranto continui la desertificazione occorrerebbero anche da parte delle istituzioni, dell'ente comune, tutta una serie di iniziative per far sì che il cittadino rimanga in città, rimanga nel centro di Taranto e non vada sempre verso la provincia, cioè creare degli elementi attrattori che ci facciano rimanere a Taranto. Infatti Luigi tu mi hai chiamato perché hai visto il mio video sui social e io ti dico, se tu hai visto bene il mio video, io dico che non è soltanto colpa del comune, che ha le sue grosse colpe, logicamente, responsabilità che sono assolutamente la luce del sole, un'estate in cui non c'è stato praticamente nulla, addirittura non hanno neanche più attraccato la vita crociera che erano previste. Se io noto il comune di Leporano, l'estate Leporanese o vari eventi della provincia attraggono il visitatore, a Leporano vanno i Tarantini, perché i Tarantini devono andare altrove quando invece potrebbero restare qui? Questo è il problema. Noi abbiamo i comuni limitrofi che organizzano in continuazione sagre, eventi, feste, bande, concerti. Per tutti i gusti. Per tutti i gusti qua non c'è nulla. Logicamente, ripeto, ha il comune e ha le sue grosse colpe, però anche noi commercianti abbiamo le nostre enormi colpe. Forse diciamo un 50 e 50, perché è facile parlare di turismo quando poi non si vuole approcciare alla modernità del commercio e dell'imprenditoria. Diciamo che questa stagione estiva comunque è andata, nel senso che il cartellone non c'è e non si può inventare, però forse costruttivamente per l'anno prossimo, già tra qualche mese, sedersi al tavolo con l'assessore al marketing territoriale e dire che quest'anno le cose sono andate così, così e così. Troviamo dei rimedi validi, come dire, dei rimedi che siano utili per tutte le parti, le componenti del territorio per disegnare, diciamo così, un'estate 2019 diversa. No, ma infatti assolutamente, ormai l'estate si può dire che è andata, mancano una trentina di giorni, una ventina di giorni. Scarsi. Scarsi, diciamo, e poi inizia settembre quando la gente comincia a tornare alle città. Il discorso che ci siamo già sentiti con il vice sindaco, nonché l'assessore Tilger, faremo degli incontri, logicamente, assieme alle altre associazioni più importanti come la nostra, insomma, Casa Artigiani, ConfCommercio e altre associazioni, per discutere di una bella pianificazione, sperando fattiva, che porti a dei cambiamenti, a dei miglioramenti, perché pensare a un'altra strada del genere, il prossimo anno, non so quanti altri negozi chiuderanno, non lo so. Tiziano, io ti saluto, intanto ti apprezzo perché sei un imprenditore che fa di tutto per movimentare l'economia, non è come qualche altro imprenditore che dice, io il fine settimana devo chiudere tutto, mi devo mangiare le polpette e bere la birra fredda. Ma si galleggia, no? Nella palude. Luigi, scusami la terminologia, ma Taranto vigila regola del cemene futta a me. Ho detto tutto. Per fortuna non tutti siamo così, grazie a Dio. Grazie a Dio, grazie a Dio. Ciao.